L'acquisto di un capo di abbigliamento può fare la differenza. Si decide infatti se sovvenzionare o meno pratiche commerciali rispettose dell'ambiente e dei diritti umani e se scelti erroneamente gli indumenti possono provocare danni alla salute. Ad esempio se si verificano irritazioni, prurito, gonfiori o arrossamenti nelle zone di contatto con il tessuto significa che tali articoli sono stati prodotti senza necessari requisiti di sicurezza. In particolare il regolamento dell'Unione Europea riconosce due principali gruppi di fibre, quelle tessili naturali cioè cotone, lana e lino e le fibre artificiali e sintetiche. Ecco quindi che diventa fondamentale la presenza dell'etichetta nel capo che deve essere leggibile saldamente fissata e redatta nella lingua ufficiale dello stato membro in cui è venduto. Inoltre è importante lavare l'indumento nuovo prima di indossarlo e se dovesse rilasciare colore lavarlo per una seconda volta. Quando compaiono reazioni allergiche invece rivolgersi al proprio medico in caso di sudorazione alcune sostanze possono essere assorbite e metabolizzate dalla nostra pelle con l'effetto di provocare dermatiti. Con l'obiettivo di aiutare i consumatori nell'acquisto consapevole nella sede della Camera di Commercio di Pesaro è stato presentato un opuscolo con alcuni semplici consigli. Ad illustrare gli elementi essenziali da tenere in considerazione è stato il responsabile pesarese di ADOC, l'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. Qui su Puscoli dove si possono trovare? Questi opuscoli verranno distribuiti tra i consumatori, tra gli associati e le associazioni ma anche nei negozi stessi perché è un'iniziativa per soprattutto fare un consumo più consapevole che va a vantaggio sia del negoziante sia del consumatore. Il segretario generale della Camera di Commercio Fabrizio Schiavoni ha sottolineato invece la lunga serie di collaborazioni con i consumatori a vantaggio anche della parte sana dell'economia produttiva e della distribuzione che in periodi di crisi soffre ancora di più la concorrenza sleale di chi non rispetta le regole. Si tratta di una serie di iniziative preventive, informative, educative e dove occorra anche ispettive e repressive appunto per verificare che tutta una serie di attività economiche si svolgono secondo requisiti di regolarità, legalità. Abbiamo dei nostri funzionari che sono costantemente attivati sul territorio per verificare queste condizioni e ogni anno prendiamo un settore o un prodotto di riferimento e cerchiamo di fornire quei suggerimenti di carattere anche culturale, educativo in modo tale che l'acquisto si svolga nel modo più consapevole e corretto.